Se allora anche Sua Eccellenza il Perfetto, signora Tizzano, è presente oggi alla partenza del Giro d'Italia, un elemento storico per la provincia di Imperia, lei è qui a testimoniare anche l'importanza dell'evento. Ho voluto partecipare e vivermi dal vivo questa esperienza che sicuramente è un momento molto particolare per la provincia di Imperia, allora è stato sempre ma quest'anno ancora di più, è costato tanto lavoro, però è un lavoro di cui si vedono con soddisfazione i risultati, la grande partecipazione e la grande passione delle persone che sono qui oggi. Grazie.